Ciao, ciao. Come verrà? In cui le altre? Eh, io so. Ma voi viene a botti all'acqua. C'è problemi di respirazione oggi eh? Questo donato è un Maikella. Che quei ambulanti hanno loro importanza. Eh, vabbè, ce ne sta. Niente da fare. Quando viene l'uno? Entra quando viene l'uno. Sì, sì, capisco. Ma Irene, questa... Al tema. Sì, 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 via. Sì, è crescendo da lì. Sì, è crescendo da lì. Se dentro è troppo lontano. Non c'è i colpi sicuri. Non c'è i colpi sicuri. Non c'è lì. Dai, vai, da lì. Te le va quando stai dentro. Non rimani dentro. Entra tutto qua. E che te le... A modo, rientra. Sì, dai, che ce l'hai. Non c'è più velosa. Ma che è buttata, Danilo? Vai, da qui. Non c'è francese, no? Tranquillo, ma che vuoi aprire? La faccia a fare. Quattici cibo lo vediamo. Non c'è francese. 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 Sia francese. defendersi... au por se c'è... Contactate! Hard duck! Toeeh! ansbet cruce... Preciso, tranquillo, prima di venire, prima di venire, bravo, 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 eh, guarda, 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 guard eh, eh, non me lo ah, bravo, io l'ho ancora preso vieni, passetto più, passetto più lungo dopo di lui, passetto più lungo ecco, ecco, bravo Chiudo, chiudo! Piano piano e entra, piano piano e entra Piano piano entra, più preciso Piano piano entra, più preciso Bravo, bravo, preciso Bravo Devvi accorciata quelquef� nel守o Devvi accorciata piece Devvi accorciataentlich guarda dentro te vai andate piano a piano a vicina del piano piano dai 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 da lì dai dai da lì dai glielano! Ai punti vince Rizzo Valerio! Ma ai punti vinceman! Grazie a tutti 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 Tutti Grazie a 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 tutti Adesso Grazie a tutti 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 E tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti